Musica Prossima colazione estiva, ci siamo un po' ispirati alla natura con le nostre scarpe iconiche. Abbiamo interpretato un po' un mood floreale, tutto dipinto a mano, tutte scarpe naturalmente, scarpe basse che sono le nostre scarpe iconiche. È evidente il richiamo alla natura con questa serigrafia floreale che abbiamo messo su tutti i nostri modelli iconici. Un cassino con i fiocchetti, la scarpa allacciata senza lacci. Abbiamo reinterpretato sempre il discorso dei nostri fiocchetti, della nostra brera, della nostra scarpa dendi, sfoderate, tacco basso perché c'è questa tendenza ormai consolidata del tacco basso. I modelli in sé non sono modelli nuovi, però con questo nuovo disegno riprendono completamente nuova vita e diventano qualcosa di diverso. Quindi è un mix di tradizione e tendenza. Questo tipo di disegno è la prima volta, diciamo che però la tecnica di colorare la pelle è una tecnica che conosciamo molto bene. Sono pinte a mano, quindi con le nostre lavorazioni, con il nostro spazio, riusciamo a creare degli effetti particolari. A noi non piace essere considerati un brand del lusso, ma un brand della qualità. Tutti i prodotti sono fatti da noi dall'inizio alla fine e per fare la qualità bisogna avere un processo di qualità in ogni sua fase. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!